se vi dico torta versata voi probabilmente sapete già di cosa si tratta di questa torta farcita che non ha bisogno di essere tagliata dopo la cottura ma viene fatto tutto insieme in step ma io ho voluto esagerare perché oggi ve la do nella versione doppia quindi con due strati di confettura ovviamente vi do le proporzioni di teglia, di impasto, di tutto quello che vi servirà per avere un risultato perfetto adesso come al solito bando le ciance, sigla e le prepariamo insieme incorporiamo gli ingredienti a velocità minima con movimenti lenti in questo modo non smonteremo il composto la farina va aggiunta poca per volta come vi faccio vedere mescolate solo il minimo indispensabile per incorporare gli ingredienti e non di più dato che dovremo poi porzionare in tre parti per me è comodo trasferire l'impasto in una caraffa graduata così posso tenere sotto controllo il quantitativo per ogni strato ogni strato dovrà essere da 300 ml circa quindi ne versiamo un po' di impasto poi mettiamo la brocca dritta lecchiamo bene i bordi e guardiamo quanto ne abbiamo usato procediamo piano piano fino a usare il quantitativo che vi ho indicato ricordiamo di fare sempre la prova stecchino per ogni strato stendiamo qualche cucchiaio di confettura a piacere io sto usando quella che preparo in primavera fragole e fragoline di bosco poi ovviamente vi farò avere la ricetta e la mettiamo però non fino al bordo lasciamo libero tutto intorno circa lo spessore di un centimetro in questo modo avremo poi al taglio l'effetto stupendo della farcitura interna ricordiamo anche di non eccedere con la confettura ne facciamo uno strato sottile perché altrimenti la torta tenderà a rimanere eccessivamente umida nel centro poi versiamo gli altri 300 ml di impasto partendo dai bordi andando tutti intorno e poi andando a riempire la parte centrale evitiamo di versare tutto in un punto perché altrimenti potremmo sia spostare la confettura sia avere delle difficoltà a redistribuire tutto e poi andando a riempire tutto poi andando a riempire tutto torta versata pronta per tutte le nostre colazioni e merende squisiterrime dura tranquillamente morbida per alcuni giorni ma voi non lo saprete mai perché durerà nella vostra cucina il tempo di uno starnuto come dura nella mia adesso vi ricordo ovviamente se mi avete seguito a fin qui iscrizione al canale like di supporto e mi raccomando la campanellina su tutte perché qui ci sono contenuti diversi c'è molta varietà in questo canale quindi viaggi, ristoranti, consigli sullo zero spreco su come organizzare la cucina, le ricette, ci sono un sacco di contenuti due video a settimana quindi campanellina su tutte mi raccomando grazie al prossimo video ciao